Aiutare concretamente le famiglie povere ancora più in difficoltà a causa della crisi economica conseguenza della pandemia di covid-19. È questo l'obiettivo dell'iniziativa a sostegno di chi ha più bisogno promossa da Coldiretti, filiere Italia e Campagna Amica. Con questo progetto molte famiglie possono mettere in tavola nella settimana di Pasqua i migliori prodotti agroalimentari fatti in Italia. Un'importante operazione di solidarietà a carattere nazionale che è stata presentata nella sua declinazione toscana. Una tensione particolare in questo momento molto delicato, Coldiretti rinnova la sua vocazione a essere forza sociale, forza amica del paese, vicina in questo momento a chi ha bisogno. In tutte le province toscane sono state organizzate le consegne a nuclei familiari in stato di bisogno individuati da Coldiretti Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei comuni, le caritas e le parrocchie. Sono pacchi alimentari molto ricchi con prodotti che normalmente non si trovano nel circuito della solidarietà e che quindi forse riusciranno a donare a tante famiglie che sono in difficoltà un momento di gioia e un momento di fiducia e di speranza nel futuro. A ogni famiglia è destinato un pacco di oltre 50 kg con prodotti 100% made in Italy. Grazie a tutti.